Il 20 gennaio il giuramento di Biden, nuovo presidente americano, Trump ammette la sconfitta, morto un agente ferito nell'assalto al congresso. Una voragine profonda a 20 metri si è aperta nel parcheggio dell'ospedale del mare a Napoli, sgomberato il Covid Hotel, nessun ferito. 414 vittime, oltre 18.000 nuovi casi, vaccini, parte anche Moderna, a Wunderleiner, rafforzato l'acquisto delle dosi. Lettera con insulti antisemiti al Museo dell'Ebraismo e della Shoah di Ferrara, indaga la Digos, il direttore non ci faremo intimidire. Cinque anni fa moriva il duca bianco, David Bowie, icona del pop, libri, fumetti e musica all'omaggio nel grande artista, il suo segno indelebile nella storia della musica. Buongiorno dalla Grazie a tutti i nostri spettatori